Sappiamo che lo yogurt è nato migliaia di anni fa, quando le popolazioni orientali conservavano il latte in contenitori fatti con la pelle degli animali. Nella lingua turca infatti il termine yogurt significa latte denso. Dobbiamo aspettare però il 1947 per vedere anche in Italia l'arrivo dello yogurt, quando l'Umir Leo Veseli, di origine cieche, rileva lo stabilimento della latteria comunale di Milano e fonda la fabbrica dello yogurt. Nasce così lo yogurt, che però non era compatto come negli altri paesi europei, ma cremoso, ottenuto rompendo il coagulo che si forma con la fermentazione e omogenizzando il prodotto risultante. Nell'immaginario condiviso degli italiani, lo yogurt è quindi cremoso e con un gusto piuttosto acido. Bisogna aspettare gli anni 90 per trovare anche sul mercato italiano yogurt con un gusto meno acido. Così, fino agli anni 40, ogni italiano consumava circa 3 kg di prodotto nel corso dell'anno. Un ulteriore incremento del consumo si ha nei primi anni del 2000. Nel 2010, infatti, si superano i 7 kg pro capite grazie anche ai lati fermentati funzionali, cioè sviluppati per rispondere a esigenze salutistiche precise. Mediamente quindi un italiano consuma circa 7 kg di prodotto all'anno e può sembrare tanto, ma se paragonato agli altri paesi è solo una minima parte. Quello che possiamo dire quindi è che sicuramente quasi tutti gli italiani ormai mangiano yogurt, ma a differenza degli altri paesi europei non lo fanno abitualmente.